Un'iniziativa concreta e non celebrativa come tante altre che si svolgono nel giorno della festa della donna, settimane che stamattina la città a Napoli, dove in piazza Matteotti, due camper hanno permesso alle donne della città di Napoli non soltanto di poter effettuare delle visite senologiche ed esami MOC totalmente in maniera gratuita. Ascoltiamo a tal proposito la consigliera regionale Biancanagero, in quanto l'iniziativa è stata promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania. Oggi 8 marzo è stata un'occasione per festeggiare la donna con una campagna di prevenzione che, come ha detto lei, è cominciata nel 2011 e che continuerò a portare avanti a tappe su tutto il territorio regionale. Abbiamo visto che è un'iniziativa dove il contatto con la gente è fondamentale, l'opportunità di fare prevenzione gratuita viene recepita dal territorio in una maniera molto opportuna e quindi noi continueremo con questa iniziativa sicuri di dare al territorio un servizio di qualità.